ciao amici ben ritrovati albergarden in molti mi dicono sei fortunato perché hai un parco in realtà io il parco ce l'ho confinante è una fortuna avete ragione questa è la postazione oggi voglio farvi vedere tre mangiatoie tre semplici modi per fare tre mangiatoie un po diverse per avere sempre qualcosa di nuovo da mettere nel bergarden e quindi avere degli spunti fotografici volta per volta diversi la prima è facilissima e questa qua non la vedete ora ve l'inquadro questa è una per così dire una mangiatoia aperta un tronco che ho scavato qua sopra questa mangiatoia aperta è facilmente accessibile quindi arrivano un po tutti quanti però arrivano anche gli uccelli quelli un po più grandi come si fa per farla la cosa è semplicissima dovete munirvi di un po di questi po di scalpelli e martello magari potete anche darvi una mano con una fresetta con una mecchia come questa eccola qua tipo questa vedete con questa fate i primi fori poi li allargate con lo scalpello l'ho fatta l'ho fatto oggi pomeriggio anche se fa un caldo viciniale andiamo a vedere se funziona un'altra mangiatoia che è semplicissima da fare è un tronco anzi un mezzo tronco come vedete scavato anche in questo caso dovete munirvi un po di buona volontà scalpelli martelli e cominciare a darci dentro come ho imparato io imparerete anche voi guardatevi qualche tutorial per non farvi male mi raccomando mai farlo in questo verso mai mettere il dito davanti ci mancherebbe e guardate un po come fare in modo da scolpirlo da prenderlo concavo in modo da poter mettere il mangiungo per gli uccelli è molto coreografico perché come vedete disposto in questa maniera quindi possiamo vedere tutte le loro fasi andiamo poi a vedere come funzionerà anche questo infine una mangiatoia un po più complessa un po più articolata sembra un barbecue allora come come si fa da dove parte e come come la costruiamo una cassetta di frutta ok una cassetta di frutta come tante ne possiamo trovare al mercato e ce la portiamo a casa una cassetta di frutta che possibilmente abbia la parte sottostante abbastanza integra non con le fasce perché altrimenti non ci facciamo niente ma con un fondo quindi basta questo sui lati come vedete ho messo un rinforzo di un pezzo di indigno che ho trovato nel bosco che ho ovviamente tagliato e con un paio di viti l'ho fissato questo qua è invece non servirebbe ma è un punto d'approdo in più che offro agli uccelli oltretutto è anche un po più bellino un pochettino più coreografico quindi faccio vedere un pochettino più coreografico quindi è anche bello vi dicevo dei rinforzini qua su tutti i bordi della cassetta questa è la sponda posteriore anche perché come vedete è un pochettino più alta e viene fuori il legno a vista che è un po' più bello di quello della cassetta poi ho messo questa volta ho scelto di sostenerla con un cavetto d'acciaio invece che con la catenella non cambia niente potete farlo con lo spago potete farlo con una catenella come volete voi ho scelto questa perché la tiene un pochettino più in equilibrio è un pochettino più rigida ho fissata con delle viti non è facile tagliare il cavetto d'acciaio perché questo è uno di quelli robusti ma volevo che dondolasse poco anche per uccelli un pochettino più grandini come potrebbe essere la viandaia il picchio e allora ho scelto questo tipo di sostegno andiamo a vedere anche questa se piacerà o meno all'interno metterò anche un po' di pacciami un po' di ritagli di tronchetti perché se metto soltanto il cibo questi sono furbi e arrivano lo prendono e se ne vanno via invece se devono cercarlo un po' in mezzo ad altre cose si fermano di più e io riesco anche a fotografarlo grazie a tutti